Mentre in Ucraina la guerra non accenna a finire, sono sempre di più le famiglie che decidono di abbandonare il paese in cerca di accoglienza in Europa, anche in Sicilia si mette in moto la macchina organizzativa dell'accoglienza predisposta dalla regione per i profughi delle zone di guerra. Lo ha reso noto ieri il presidente della regione nell'Omusumeci in seguito all'ordinanza di protezione civile nazionale che delega le regioni a mettere in campo le azioni di accoglienza e assistenza a favore dei cittadini in fuga dell'Ucraina. C'è già la disponibilità alla Croce Rossa per far arrivare i farmaci e anche un certo numero di posti letto nelle strutture sanitarie destinate soprattutto ai bambini. Un gesto di generosità che il presidente spiega così. Per quanto riguarda la Sicilia abbiamo già dato la disponibilità alla Croce Rossa di far arrivare farmaci in Ucraina mentre abbiamo immaginato di mettere a disposizione in Sicilia un certo numero di posti letto nelle strutture sanitarie soprattutto per quanto riguarda i bambini. Siamo pronti a questo ulteriore gesto di generosità in una terra che è stata sempre culla di accoglienza e di solidarietà. Siamo pronti a fare la nostra parte nella speranza che questa assurda guerra possa presto concludersi con il buon senso della diplomazia. Intanto la spinta umanitaria per l'accoglienza dei profughi ucraini inizia a generare anche qualche fake news. Da un paio di giorni circola sulle chat di whatsapp un messaggio che annuncia l'arrivo di un pullman e di profughi presso la parrocchia San Domenico Savio. Nello stesso messaggio si chiede alle famiglie di ricarsi in chiesa per ospitare i bambini nelle proprie case. Un'iniziativa lodevole che però non ha nulla di vero come spiega Don Paolo Terrana che in queste ore ha dovuto rispondere a decine di richieste di disponibilità. Non arriva nessuno, questo è chiaro. Certamente qualcuno gli piace scherzare e l'ha fatto anche perché secondo me sta scherzando perché noi siamo stati fin dall'inizio ben esposti a intervenire in questa situazione di necessità. In una comunità cristiana che viviamo nella necessità anche noi che siamo senza parrocchia, siamo attendati proprio nel senso letterale del termine e comprendiamo facilmente le situazioni di necessità degli altri e noi ci stiamo muovendo in maniera chiara su due direttrici. La prima mandare gli aiuti direttamente là. Noi abbiamo alcune case salesiane in Ucraina in cinque città che si appoggiano ai salesiani di Polonia che sono confinanti. Motivo per cui prima forma chi li vuole aiutare concretamente o li date a me e io li spesco a loro, li spunderà anche l'Iban della nostra casa di Polonia oppure quella della nostra direzione generale, li mandiamo lì e loro li mandano ai confratelli. Quindi arrivano in maniera diretta senza intermediari. Don Paolo spiega invece quali siano al momento le possibilità reali e concrete per dare una mano ai profughi. Se questa guerra dovesse continuare e speriamo invece che finisca e ci saranno milioni di profughi, è chiaro che non li possono tenere tutti i confini, saranno smistati in tutta l'Europa. Tenerci preparati, ho già una lista, fino adesso una quindicina di persone mi hanno già dato la disponibilità, io posso accogliere un'intera famiglia perché c'ho una casa a Mambria, io a casa mia ho la stanza da letto per i bambini che è rimasta vuota, posso accogliere una mamma e un figlio, io posso accogliere due bambini, così avendo noi già le disponibilità. Quando arrivano queste persone io posso dire che nella nostra zona possono essere mandati tanti profughi che saranno accolti nella casa X3, nella casa Y2, presso questa famiglia è una famiglia sana e così via. Quindi essere pronti a questo, prepararci a fare una carità che sia attiva. E poi un'ultima cosa che stiamo facendo insieme con la collaborazione con l'Andiracket e altri, perché sono legati a un'associazione che spedisce dei medicinali, quindi soltanto medicinali, un'associazione ucraina tramite ambasciata che spedisce medicinali lì dove c'è bisogno, ma per il resto non ci sono altre forme.